Soleil Sorge si è resa protagonista di una mossa inaspettata, nelle scorse ore, al GFVIP. L'influencer reagisce così alla notizia. A tener banco in casa è ancora il famoso triangolo amoroso. Una situazione che rischia in ogni caso di stufare il pubblico, visto che le continue evoluzioni sembrano non portare da nessuna parte. Sembra essersi stufata, e aver penso interesse, anche la stessa Soleil Sorge, la quale ha reagito in maniera inaspettata ai recenti comportamenti di Delia. La moglie di Alex infatti, nella serata di ieri durante la festa, si è tolta la fede in segno di completa e definitiva chiusura col marito. Ed è stata proprio l'influencer a provare a farla ragionare, cercando di farla tornare sui suoi passi e di non compiere gesti avventati. Che debba essere proprio la causa di tutti i problemi matrimoniali della modella e dell'attore, a rincorare e a far ragione Delia? Una situazione paradossale, come l'ennesimo confronto avuto dalle due, dove Soleil ha consigliato alla modella di prendere tempo, e non essere impulsiva. Questo sfogo eccessivo non lo capisco, non toglierti la fede, stai esagerando. Soleil, durante la festa di ieri al GF VIP, ha voluto calmare Delia, la quale si era addirittura tolta la fede per provare, forse a se stessa, una volta per tutte che il suo matrimonio era ormai finito. Una mossa che ha fatto storcere il naso all'influencer, la quale anche un po' disinteressata ormai soprattutto dopo i recenti comportamenti di Alex ha fatto ragionare la modella. Lui ti ha tutelata, ti ha sempre difesa. Prenditi i tuoi tempi per riflettere. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501